Grazie. Soprattutto la maglia, i nostri atleti ai mondiali non è più, diciamo, questa settimana è la settimana del mondiale, i mondiali è veramente importante. Sì, la settimana è più importante. Speriamo domande. Grazie. Grazie. Pervenuto. Grazie. Continuiamo a reti Girardelli, sono la proposta di quest'anti Girardelli e sono la presidente del Giro d'Italia d'Epoca e volevo omaggiarla della maglia di lana perché noi, il nostro circuito è un circuito solo che... E' quella d'epoca? Sì, questa è l'epoca, questa è la del bisnonno ed era del 1919. Pietra miliara della fornirciquina. Sì, anche un po' della storia d'Italia. Grazie a tutti. Grazie di tutto. Grazie, grazie. Grazie. Mi chiamo Lisa, sono in rappresentanza delle aziende italiane del ciclismo, rappresento Vittorio in questo momento ed è un piacere essere qua. Il signor Pegoretti è inventato. Dario Pegoretti, sono qua valligiano di Acide e Aspera e in più ho fatto questo unico museo. L'uso del paracetico. Gioca in casa, proprio gioca in casa. Gioca in casa, rappresento l'imperiale Roma e il gruppo Vinterci di Roma. Ha fatto il giro, ha fatto il tappo a Bocchera, un museo storico. Facciamo un percorso verso. Davico studia e gli altri corro. E l'attività.